Un vasto incendio sta interessando dalla notte scorsa una zona boschiva del comune di Teramo nella frazione di Magnanella. Al lavoro sin da subito alcune squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Teramo assieme agli uomini del corpo forestale dello Stato e dei volontari della Cives protezione civile di Teramo. Le operazioni di spegnimento sono coordinate anche con l'utilizzo di due canadeir. Il fumo che stamattina era visibile anche ad alcuni chilometri di distanza. Al momento non ci sarebbe comunque pericolo per i residenti della zona. A fuoco almeno 10 ettari di bosco fra latifoglie e conifere, pascoli e parte di una pineta storica. Le fiamme sono favorite dalle alte temperature. Nei giorni scorsi altri incendi avevano colpito soprattutto il pescarese nei comuni di Alanno, Bolognano, San Valentino in Abruzzo Citeriore e Città Sant'Angelo.